Partiranno da domani i campi estivi promossi dal comune di Siano. Il sindaco Giorgio Marchese ha rassicurato i suoi concittadini sul servizio offerto ed ovviamente il mese di agosto a Siano è dedicato a San Rocco. Quest'anno a causa dell'emergenza sanitaria sarà una celebrazione diversa rispetto al passato ma il primo cittadino ha già rassicurato che vi saranno solo iniziative religiose nel pieno rispetto delle normative anti-covid. I campi estivi della settimana prossima grazie al lavoro dei consiglieri comunali, delle tre consiglieri comunali, Fortuna Albano, Teresa Botta e Palmina Di Maio a cui va il mio ringraziamento che si sono impegnate ad incontrare le associazioni che hanno dato la disponibilità. Dalla settimana prossima, dall'anno 27, inizieranno anche i campi estivi. Poi proseguiranno anche dopo il ferro agosto. Noi dobbiamo considerare che Siano è un paese abituato ad andare anche un pochino in vacanza, in relax nel mese di luglio perché nel mese di agosto noi siamo sempre devoti. Purtroppo quest'anno è saltata la festa, le festività civili e ci saranno sicuramente la Santa Messa del giorno 16 a cui verrà presieduta dall'arcivescovo Andrea Bellandi e quindi anche in questi giorni, i giorni scorsi abbiamo incontrato anche il comitato festeggiamenti con il parroco Don Crescenza Liberti e a cui stiamo mettendo in campo solo delle iniziative religiose perché siamo sempre devoti al Santo Patrono.